amici e amiche carissime bentornati per questa nuova puntata del ciclo di catechesi girare nella divina volontà è un po che non che non riusciamo insomma non siamo andati in diretta motivazione una riorganizzazione diciamo così ecco logico pastorale insomma delle attività di inizio d'anno sto cercando ancora di trovare un pochino di ordine di e di e di organizzazione non di riuscire a mantenere aperti tutti quanti diciamo così fuochi i santi fronti diciamo così di evangelizzazione senza trascurarne nessuno come al tempo stesso cercando anche di ben dosare le forze le energie tenendo presente insomma anche che per grazie e volontà di dio sono anche parroco quindi sono molte le cose da dover contemperare quindi abbia pazienza chi è abbastanza interessato a questo ciclo di catechesi quindi continuerà con con la frequenza che il signore vuole sicuramente almeno una catechesi al mese chi vorrei arrivare a due insomma se è possibile riusciremo a a farla tenendo teniamo sempre presente che questo ciclo di catechesi che dovrebbe essere un po come accennato diverse volte adesso faccio un po di sintesi essendo un po che non ci sentiamo è un po la conclusione dei pari cicli di catechesi sulla divina volontà fatti a partire da quello diciamo base che è il dono della divina volontà che la presentazione sintetica e appunto del dono è un po datato credo che sia il 2017 che ando in onda a suo tempo sarà del buon consiglio poi e ad amo e la vita nella divina volontà quindi un altro ciclo abbastanza importante di approfondimento di qual è la vita che il signore intende farci rivivere adesso fondersi nella divina volontà quindi uno degli atti fondamentali che appunto la fusione e questo è è girare girare nella divina volontà sapete che fondersi e girare l'abbiamo detto un pochino tante volte fondersi girare unitamente ad operare nella divina volontà quindi a compiere gli atti quindi gli atti attuali sono le operazioni diciamo così tipiche fondamentali di questo di questo mondo io non amo tanto chiamarla spiritualità perché non comunque di questa di questo modo di vivere di questa vita che il signore ci ha fatto comprendere ecco perché queste operazioni tendono a produrre a impiantare dentro di noi ecco diciamo così la vita stessa della divina volontà perché sia principio di tutti i nostri atti compresi quelli su cui la nostra coscienza non ha il controllo tipo il battere le ciglia il camminare il muovere gli arti il dormire il riposare la circolazione del sangue eccetera eccetera no quindi sono tutte tante queste queste cose che piano che hanno bisogno di un processo evidentemente di progressiva crescita quindi più ne facciamo di queste cose tanto per risintonizzarsi un po e meglio è ovviamente come sempre senza angoscia senza patemi senza agitazioni o cose di questo genere ricordiamo sempre che il mondo della divina volontà è il mondo della della pace della calma e della quiete cioè anche se il mondo trema d'accordo se succede il fini mondo a tutti i livelli chi vive nella divina volontà rimane nella pace rimane stabile rimane sereno sempre ovunque e comunque perché la potenza infinita della divina volontà non accorcia mai il suo braccio nella sacra scrittura si legge che il braccio del signore non si è accorciato se non si è accorciato il braccio del signore non diminuisce la potenza della divina volontà ecco per cui anche gli eventi più dolorosi più sconvolgenti a tutti i livelli tutti i livelli a livello personale a livello familiare a livello parentale a livello sociale a livello politico a livello nazionale internazionale ecclesiale parrocchiale diocesano chiesa universale qualunque cosa che succeda sempre calma serenità e pace calma serenità e pace ricordiamo bene questo 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 trittico non si perdono le staffe non si perde il controllo non si perde la speranza non si perde la fiducia non si perde soprattutto la percezione che qualunque cosa stia accadendo dio non dorme ecco c'è un bellissimo salmo sicuramente altre altre volte non che il salmo non ricordo male il 121 bellissimo anche in ebraico non si israel quindi questo ricordiamolo sempre sono espressioni evidentemente antropomorfiche ecco per ricordare insomma dio ha tutto presente a tutto sotto controllo l'onnipotenza della sua volontà è capace di far vivo per cui anche il male viene da dio permesso ciò detto entriamo nel vivo nel merito ecco della nostra odierna conversazione siamo arrivati al volume dodicesimo 2 febbraio 1921 i volumi 11 e 12 sono notoriamente molto molto belli no comincio la lettura e poi come sempre proviamo a fare un po di commento continuando il mio solito stato stavo fondendomi tutta nel volere divino e dicevo tra me attenzione volume 12 2 febbraio 1921 non so se l'ho specificato per chi volesse seguire mio gesù voglio amarti e voglio tanto amore amore da supplire all'amore di tutte le generazioni che sono state e che saranno ma chi può darmi tanto amore per poter amare per tutti amore mio nel tuo volere c'è la forza creatrice quindi nel tuo volere voglio io stessa creare tanto amore per supplire sorpassare all'amore di tutti e a tutto ciò che le creature sono obbligate di dare a dio come nostro creatore ma mentre ciò facevo ho detto quanti propositi sto dicendo quanti spropositi sto dicendo ed il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia certo nel mio volere c'è la forza creatrice da dentro un solo mio fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle dal fiat della mia mamma da qui la mia retenzione borgine escono miliardi e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime questi atti di grazia sono più belli più risplendenti più multiformi delle stelle e mentre le stelle sono fisse non si moltiplicano gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito in ogni istante corrono allettano le creature le felicitano le fortificano le danno vita a se le creature potessero vedere nell'ordine soprannaturale della grazia sentirebbero tali armonie vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che fosse il loro paradiso ora anche il terzo fiat deve correre con gli altri due deve moltiplicarsi all'infinito ed in ogni istante deve dare tanti atti per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno per quante stelle per quante gocce d'acqua e per quante cose create sprigionò il fiat nella creazione deve confondersi insieme e dire quanti atti siete voi tanti ne faccio io questi tre fiat hanno uno stesso valore e potere tu scomparisci è il fiat che agisce e perciò anche tu nel mio fiat onnipotente puoi dire voglio creare tanto amore tante adorazioni tante benedizioni tanta gloria al mio dio per supprire a tutti ea tutto i tuoi atti riempiranno cielo e terra si moltiplicheranno con gli atti della creazione e redenzione e ne faranno uno solo parrà sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò ma allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice e poi quando sono io che lo voglio che do questo potere ogni dubbio cessa non sono forse libero di fare ciò che voglio e di dare a chi voglio tu sia attenta io starò con te ti adombrerò con la forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te bene sorrido perché anche qui oggi allora anzitutto vorrei invitare una considerazione insomma che penso non ci sarà sfuggita a nessuno vedete quando uno comincia a entrare nella divina volontà come luisa e gli si sprigiona la fantasia io personalmente mi piace insomma pensare no mio opinione personalissima che quanto più la nostra fantasia diviene intraprendente no libera creativa ecco diciamo così nell'inventarsi qualcosa d'accordo perché quando si vive nella divina volontà si vive ad alti livelli in un orizzonte di amore noi per capire purtroppo molti pensano che l'amore divino sia qualche cosa di 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 particolari spirituale insomma di 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 etereo di di angelicato di disincarnato nodi e quindi non riescono neanche a rappresentarsi perché noi non abbiamo questa conoscenza e questa esperienza dell'amore noi abbiamo la conoscenza dell'amore molto concreto molto molto tangibile che si esplica in sguardi in gesti in baci in carezzi in abbracci adesso mi raccomando tutti i dati dentro casa perché se no se se mi prendono in giro mi portano quindi mi raccomando e quindi perdonate la battuta ma è meglio ogni tanto farsi due risate insomma perché è meglio così allora certamente noi penso che tutti io mi candido penso che tutti saremo felici di avere dinanzi la santissima umanità di gesù e della madonna e ecco ciascuno nel nostro cantuccio c'è qualche c'è qualche mistico qualche santo che ha detto che in paradiso ci abbiamo il nostro appartamentino privato il nostro cantuccio dove si vive in intimità con il signore perché il signore è uno la madonna è una questa è un'altra cosa bellissima che sappiamo dagli iscritti ma attenzione il rapporto personale tra l'anima e il signore o tra l'anima e la madonna è unico e privatissimo d'accordo conosciuto soltanto dall'anima e dal suo interlocutore basta è vissuto come come se tutto il resto non esistesse è bellissimo questo qui cioè loro sono tutti per noi come se non ci fosse nient'altro che te e lo possono essere questo è la potenza della linea volontà per tutti non è che si sta con me toglie qualcosa a qualcun altro e viceversa no allora purtroppo sulla terra non ce l'abbiamo l'umanità di di gesù no certo ci abbiamo per esempio l'eucaristia non ci abbiamo l'umanità di gesù ma ci abbiamo le nostre fotografie quando penso che siamo stati io sono stati innamorato insomma quindi quando il moroso l'amorosa così lo chiamo nel nord italia è lontano che facciamo guardiamo la foto guardiamo no e magari qualche volta diamo pure qualche bacio alla foto e magari qualche volta specialmente le vecchie foto adesso è tutto digitalizzato ma io sono diventato vecchierello insomma quando ero giovane sapevano anche che cos'era una foto digitalizzata c'erano le foto come si chiama in cellulosa forse erano non sono molto un esperto di questi materiali e quindi se tu gli dai magari qualche bacetto di troppo si vedeva la foto si rovinava insomma no quando non ci sta il diretto interessato di accontentare la foto d'accordo noi ci abbiamo il crocifisso ci abbiamo le immagini di gesù ci abbiamo le immagini della della madonna quindi ci sono tanti modi allora perché sto dicendo tutto tutto questo vedete qui luisa se n'è inventata una grossa dice guarda io ti amo gesù mio capito ma non solo che non mi basta io vorrei siccome lo so che tu soffri perché in tanti non ti amano mi devo inventare qualcosa ma io so una come faccio capito per quanto io ti possa amare alla alla follia è qua ci stanno miliardi di persone che che non ti amano e e che facciamo come si fa siccome era un pochino pratica nella divina volontà si è inventata sta cosa cioè è spettacolare no io il dodicesimo volume fu anche a suo tempo con le meditazioni quotidiane siamo arrivati al 19 quindi sicuramente questo brano l'ho meditato no quindi ce l'ho meditato questa è la terza volta che uno lo legge no quindi io penso che il libro di cielo questo vale un pochino per tutti è una di quelle cose che una volta che si apre se uno desidera vivere in questo modo bisogna metterlo al regime perché si apre e dopo di che una volta che si finisce si ricomincia perché una lettura con tutto quel materiale che c'è non basta diciamo così ad assimilarne no anche due tre quattro cinque sei sette letture non basteranno lo stesso insomma no per il resto non parleremo in paradiso insomma no però qui se ne inventa una grossa c'aveva questa c'aveva questa c'aveva questa ansia d'amore diciamola così no adesso già capite già che già che le viene il pensiero immaginiamoci nostro nostro è un pensiero bellissimo questo è il pensiero di un anima amante è un pensiero di un anima amante che ha anche compreso il mistero grande che è un mistero dell'amore non amato la tragedia anche se vogliamo dell'amore non amato non amano gesù l'amore non è amato ha detto qualche qualche santo ricordo insomma non vorrei adesso non vorrei dire uno sproposito l'amore non è amato è possibile non amare l'amore purtroppo si soprattutto tutta parte di chi non lo conosce e peraltro purtroppo non fa nessuna non si dà la minima cura almeno un pochino conosce si inventa scusa un attimo vediamo un attimo nella divina volontà c'è la forza gratis è giusto perché a Dio basta volere una cosa per quella cosa sia basta un atto di volontà perché una cosa sia creata il fiat c'è la potenza creatrice io posso agire tutto mi tu mi hai rivelato gesù che vivere nella divina volontà vuol dire fare i miei suoi atti vuol dire entrare in essa vuol dire andare a prendere tutto ciò che in essa ci sta allora sai che faccio nel tuo volere io voglio creare tanto amore da supplire e sorpassare l'amore di tutti e tutto ciò che tutte le creature sono obbligate di dare al nostro Dio come creatore attenzione due cose dice cioè attraverso la potenza della tua volontà io voglio essere il numero uno nell'amore tanto amore per sorpassare l'amore di tutti e inoltre oltre che essere il numero uno supplire l'amore di tutti e darti tutto l'amore che le creature sono obbligate a darti e non ti danno dopodiché ci penso un attimo metti il ditino davanti alla bocca dice sto dicendo degli spropositi mai come sto zitta ecco e qui interviene gesù come come evidente dalla conclusione gesù sta dicendo guarda che questi non sono affatto spropositi adesso provvedremo no coglie l'occasione come sempre per per dettagliare insomma no e spiega qui io credo che sia le persone che stanno ascoltando la diretta sia chi poi ascolterà questa catechesi dato insomma che è una cosa molto molto tecnica se vogliamo no penso che alcuni concetti basilari li conosce insomma no però qui gesù fa riferimento di nuovo ai tre fiat no il fiat tecnicamente si chiama creante il fiat redimente il fiat santificante il fiat che si trova nel versetto terzo del libro della genesi iechi in ebraico sia la luce il fiat di maria santissima che il fiat redimente e il fiat santificante il cosiddetto terzo fiat che è quello che gesù che è già in atto d'accordo da quando gesù è sceso sulla terra insieme con la madonna ma è rimasto come dire sospeso fino a quando non è stato perfettamente e pienamente disvelato e rivelato è rimasto sospeso nel senso che noi lo abbiamo invocato senza neanche sapere che ci fosse pregando il padre nostro questo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra quel fiat volontà stua si con in cielo e in terra è il terzo fiat d'accordo è il cosiddetto fiat santificante quel fiat che porterà sulla terra che cosa la fine di tutti quanti mai l'avvento di tutti i beni il ripristino di uno stato di una condizione di grazia di felicità anche terrena molto simile a quella dei nostri progenitori e una gioia una felicità una rinnovazione anche della chiesa dell'umanità degli uomini che attendiamo non sappiamo quando non sappiamo dove come non si è mai vista sappiate che ho già detto che ci sono ottimi motivi e mi avviso per pensare che questo accadrà con il trionfo del cuore immacolato di maria perché ci sono tante tante fonti da tanti rumors che 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 sembrano portare verso verso questa direzione no anche perché stiamo andando cioè questa è una cosa tipica anche della della gira di dio no cioè prima di fare un bel botto di quelli entusiasmanti cioè quindi prima di fare una un'impennata di quelle che non prima di andare proprio in fondo cadere proprio in basso in basso in basso no si riproduce un pochino la la dinamica che accaduta con gesù stesso cioè con la passione la morte no quindi un incalzare insomma basta rivedersi la passione di di mel gibson quando si vede la passione di di mel gibson cioè il sentimento che nasce nel cuore perché chi l'ha visto questo cosa lo capisce e ma quando finisce basta 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 cioè massacrano gesù al gezzemano e lo confiano dopodiché continuano i sacerdoti dopo continuano la notte la prigionia e poi il processo e poi gli sputi e poi la flagellazione terrificante e poi l'incolonazione di spine e poi la via crucis e poi la crocifissione e poi il tempo sulla croce gli insulti sulla croce non dice basta mamma mia cioè c'è proprio questo c'è proprio questa questo questa sensazione no questo questo dire mamma mia va per favore basta d'accordo vedere anche lo strazio insomma della madonna no finisce finisce quindi qua quando ci siamo variati proprio al culmine che più di questo non se ne vuoi più ecco gesù muore il diavolo strilla capisce che paradossalmente quando doveva gongolare è arrivata la sua fine si apre la tomba e gesù esce con la risurrezione attenzione che dio è è enormemente più grande di noi non possiamo comprendere le sue azioni non possiamo comprendere molte cose di lui però ogni tanto possiamo anche come dire provare da da poveri figlioletti in braccio a papà dire ma abbiamo capito come fai tu è d'accordo abbiamo proprio capito cioè nel senso che prima di spararne una grossa cioè permetti che succeda il finimondo d'accordo arriva a livello proprio si salvi chi può se ci diamo un'occhiata in giorno in giro insomma io ogni tanto mi chiedo dico bene ancora vai tranquillo vediamo un altro po dico avanti insomma no dico tanto presto tardi arriverà sto fondo cioè arriverà alla fine insomma non è possibile no quindi come dice ci facciamo un bel sospirone ci attrezziamo lo stomaco diciamo così se ci facciamo un bel rivestimento d'acciaio intorno allo stomaco che andiamo avanti tanto finirà d'accordo e quando finirà cominceranno le danze insomma no ecco e d'accordo quindi questo per dire i tre fiat allora Gesù riprende il discorso di Luisa e dice certo che nel mio volere c'è la forza creatrice forza che dice vuoi vedere che forza creatrice che ci sta cominciamo il fiat creati ho detto un fiat il libro della gene si racconta la creazione in sette giorni voi sapete che qui ci sono tutta quanto una serie di situazioni no sette sicuramente nella come dire nella letteratura ebraica è il numero della perfezione no sette sono i doni dello spirito santo sette sono le petizioni del padre nostro sette sono i colori dell'iride in cui si si scompone la luce lo sappiamo tutti quanti no sette sono le note musicali quindi dire la creazione in sette giorni non posso non voglio entrare in merito e potersi anche che ci abbia messo sette giorni come dire letterali ma sicuramente sta dicendo che la creazione è un'opera perfettissima e lo è e il cui culmine del mondo creato materiale dell'uomo qui questo è il messaggio fondamentale giù dice un fiat è successo finimondo miliardi e miliardi di stelle quindi la creazione proprio materiale degli enti quindi la materia poi c'è il fiat di mia madre e questo ha fatto uscire fuori quella sola parola della madonna testa è stata una altro che l'esplosione del più grosso vulcano del mondo è stato un uragano miliardi e miliardi di atti di grazie di se li poteste vedere se voi li poteste tutti quanti vedere pensereste di stare già in paradiso sulla terra per quanta grazia è uscita da lì perché mentre le stelle ne sono uscite miliardi ma non si moltiplicano dice gesù invece gli atti di grazia si moltiplicano capite perché ogni ogni opera buona che qualunque cristiano in grazia compie ancora la moltiplica ulteriormente la grazia quindi cioè si innesca una reazione potenzialmente infinita e dirompente nel senso che gli atti della madonna continuano a produrre gli effetti e provocano a loro volta reazioni positive concatenate l'una dall'altra quindi è un moltiplicatore senza fine ecco perché se li potresti vedere tutti quanti quindi ogni tanto cioè è consolante anche sentire queste 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 cose da parte del del signore no io adesso non voglio dire insomma non non io penso che non si possa campare detto proprio fra me e voi se posso insomma contire con una considerazione personale noi non possiamo stare sempre ad affliggerci l'esistenza a sentire notizie catastrofiche leggere cose brutte cose brutte che accadono articoli critiche cose cioè non non se può non è possibile insomma un pochino sì d'accordo cioè nel senso che uno non può campare fuori dal mondo e essere disinformato ma la famosa igiene mentale io penso che io penso che bisogna farla cioè l'igiene mentale bisogna farla e dobbiamo anche riempirci la mente di cose belle ma non perché uno vuole fare l'illuso vuole fare la persona che che sta fuori dal mondo che non affronta i problemi eccetera eccetera no ecco quindi però questo è un bello spettacolo da da contemplare pensiamoci d'accordo non guardiamo sempre soltanto le cose negative adesso è inutile come dire citare quello che 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 tutti conosciamo no ma non è l'unica cosa ne sono anche altre insomma ecco quindi allora poi gesù aggiunge se c'è questa come dire scorribbanda immensa anche il terzo fiat deve correre insieme con gli altri due fiat deve moltiplicarsi all'infinito ed in ogni istante deve dare tanti atti per quanti gratti di grazia si sprigionano dal mio seno d'accordo e quindi deve qui in qualche modo eguagliare gli atti fuoriuscenti dal fiat creante e dal fiat redimente allora ci ho detto tutto ciò premesso dice gesù tu lo puoi dire nel mio figlio tornipotente voglio creare tanto amore tante adorazioni tante benedizioni tanta gloria al mio dio per supplire a tutti a tutto i tuoi atti riempiranno cielo e terra e si moltiplicheranno con gli atti della creazione per retenzione ne faranno uno solo allora parrà sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò e allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice allora questo è un altro punto fondamentale ma che è sta roba cosa sono queste cose allora ecco l'importanza della della formazione no dice ti pare incredibile non è tanto incredibile a meno che tu non voglia mettere in dubbio la potenza creatrice di dio non è proprio parliamo ma allora qui tu non è che devi metterti a come dire approfondire gli iscritti sulla divina volontà qui devi tornare al catechismo rifare il catechismo e soprattutto vedere se ti vedete te ne è rimasta almeno un pochino insomma no perché nell'antico catechismo di san pio decimo ma anche insomma nel credo che diciamo la domenica credo in un solo dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra non serve andare al catechismo di san pio decimo basta credo di inizia se non ci credi a questo dobbiamo un attimo fare molti passi indietro no quindi la fantasia questo brano sta nel testo girare nella nella divina volontà non c'è un giro come dire un giro solito no è un giro differente qual è il giro che qui fa luisa il giro che fa luisa è appunto produrre e come dire produrre creare quest'amore e questo amore farlo circolare dappertutto perché supplisca all'amore che a gesù non viene da quasi nessuno ok quindi abbiamo visto in questo brano odierno riprendo un po il filo ed è meglio diciamo fare una piccola conclusione per non imbarcarci perché l'altro testo è ugualmente interessante di durata media quindi non vorrei fare le cose di pressa questo è un altro grande un altro grande principio della della vita interiore è meglio poco ma bene e sempre che tanto ma male e non sempre questo è un grande principio della della vita interiore per cui anche nella lettura degli scritti se mi posso permettere insomma dato che siamo in tema e è sempre da preferire poco ma tutti i giorni c'è un giorno c'è pochissimo tempo mi capita anche a me lo confesso cioè delle volte il tempo è talmente poco che un brano specialmente quando sono un pochino lunghi non si riesce a leggere tutto anche perché ciò da leggere soltanto il libro diceva sacerdote insomma ci sono diversi e di diverse aree diciamo così di lettura attiva però piuttosto che niente due paginette tanto poi di brani dice dice qualcosa dopo ciò gesù è tornato no sono prendersi mesi c'ho tempo c'ho 5 minuti per leggere soltanto quelle due paginette ci metto a punto e ho letto due paginette quindi un discorso come dire di senso compiuto sulla divina volontà che mi tiene però per la nostra struttura mentale perdonatemi questa piccola divagazione conclusiva per come siamo fatti noi in questo mondo il segreto è questo questo è un segreto per tutte le cose per tutte cioè per le cose elevate per le cose dello spirito ma se posso fare esempio terra terra chi deve perdere peso se non sogna che perde peso con due giorni o tre giorni d'accordo deve acquisire e ripetere nel corso del tempo con pazienza anche vedendo degli degli stili differenti dagli oggi dagli domani dagli dopo domani vedrai sul medio sul lungo periodo come starai bene chi fa attività fisica la stessa cosa chi fa uno sport la stessa cosa chi suona la musica la stessa cosa ma anche per cioè chi fa il sacerdote la stessa cosa cioè è chiaro che passando il tempo necessariamente alcune cose si si raffinano perché cioè ma questo va anche nelle competenze professionali no cioè ogni catechesi nuova che uno fa dovrebbe essere così no farle un'altra vuol dire che si spera che un po meglio di quella prima perché passo dopo passo uno si raffina migliora si spera insomma no è chiaro che sono la volta ogni tanto non c'è una non non c'è perché il segreto della 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 nella vita terrena proprio questa regolarità questa questa costanza imparare una lingua per esempio chi di voi ha imparato una lingua a meno che uno non venga trapiantato io ho avuto questa esperienza per esempio no perché io sono stato da diversi anni fa in un paese dell'america latina di un'esperienza di missione 40 giorni io ho imparato lo spagnolo meglio in 40 giorni che in dieci anni di studio di inglese perché perché 40 giorni di full immersion cioè lì o parli o parli perché se no se no se no non campi non c'era nessuno che parlava l'italiano invece che succede l'inglese abbiamo tutti studiato un pochino a scuola fin dalle scuole medie però c'è due ore a settimana poi fai compiti due ore a settimana non te ne impari una lingua io sono stato anche all'accademia britannica poi ma l'accademia britannica lo stesso la lezione era una volta due volte tre volte a settimana è sempre e cioè perché per cioè quando tu stai fuori contesto che devi imparare una lingua straniera o ti metti tutti i santi giorni anche dieci minuti oppure in dieci anni arriverai ad un livello poco più che scolastico poco più di 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 pura sopravvivenza perché il nostro cervello è fatto così e qui bisogna essere molto molto concreti molto molto terra terra quindi poco e bene poco bene sempre d'accordo poco bene poi quando c'è un po più di tempo però non poco un po di più abbastanza ma sempre bene sempre quindi e nella vita interiore queste forme di elasticità mentale adesso questo magari non è proprio un argomento attinente al tema in parte lo è d'accordo perché voi sapete anche queste piccole condivisioni queste queste catechesi non sostituiscono un lavoro fondamentale d'accordo che è assolutamente imprescindibile questi sono dei piccoli aiuti cioè la lettura personale degli iscritti oltre che la pratica della vita d'accordo non c'è uno può dire che che bella catechesi quella fatta da qualcun altro che non sia don don leonardo ovviamente no benissimo d'accordo ma la catechesi non ha come come scopo quella di essere bella d'accordo la catechesi ha come scopo quella di di provocare una risposta di vita che poi evidentemente è l'ascoltatore che deve deve porre in essere deve deve porre in atto allora compito a casa dopo una meditazione come quella di questa sera qual è mettiti davanti al signore e sprigiona la fantasia d'accordo io stiamo facendo il ciclo di catechesi girare nella divina volontà ho aperto tre podcast sappiate insomma questo lo dico anche per chi ascolterà cioè la maggior parte delle delle persone che a quanto mi sembra mi segue si limita ai social soprattutto facebook ma c'è anche twitter instagram insomma linkedin c'è no ci sono diversi altri facebook diciamo che quello che convoglia il maggior numero di persone e il canale youtube pochi sanno però che tutta quanta la mia attività postolica è disponibile non soltanto in piattaforma video su youtube che se uno sta in macchina se uno sta in autobus o sta in giro o sta passeggiando non è che può vedere il video ci sono gli mp3 podcast i podcast che sono distribuiti diciamo che la piattaforma di lancio è il mio sito web nell'area download c'è tutto sono distribuiti per titoli ci sono anche questi di girare nella divina volontà ma per un uso più maneggevole sui dispositivi perché l'area download del mio sito è abbastanza pesante da un punto di vista grafico quindi se si apre su un tablet o su un iphone non è di facile maneggevolezza ok allora che succede li ho distribuiti su una serie di piattaforme che si possono scaricare sui nostri dispositivi con estrema facilità i podcast sono su itunes sono su google podcast sono su spotify che personalmente è una grandissima piattaforma cioè io uso alcuni podcast e li ascolto con spotify perché è il più il più attrezzato anche da un punto di vista di capacità di condivisione tra dispositivi differenti c'è spreaker ok quindi questi quattro che sono i principali poi c'è anche come si chiama c'è anche i heart radio c'è cast box c'è pod chaser c'è podcast addict ce ne sono tantissime di piattaforme però itunes google podcast spotify e spreaker sono i principali quindi che succede per esempio io ho aperto una serie di podcast e questo è ritorno soltanto in podcast non ci sono i video su youtube dove ci sono i giri nel fiat creante i giri nel fiat redimente e giri nel fiat santificante ce ne sono pochini qualcuno perché ho cominciato a farne un po cosa sono quei giri sono un modo che se uno non si sente diciamo così con la vena creativa di fare un giro e anche per per acquisire una certa diciamo così maneggevolezza può far suo se crede insomma un giro fatto da me usarlo come preghiera e magari quando sta passeggiando in giro anziché da perdere tempo con le cuffie si fa un bel giro nella divina volontà quando sta sull'autobus la stessa cosa stiamo facendo una revisione di tutti quanti i volumi del libro di cielo le registrazioni audio quindi gli audiolibri stiamo facendo un lavoro insomma con alcune collaboratrici credo buono nel senso che una lettura attenta e corretta intonata quindi cercando di curarla al meglio possibile certo non siamo attori professionisti ci sto in mezzo anch'io insomma questa cosa qui né doppiatori di film creandoci anche un sottofondo musicale perché ci sono alcune e io l'ho messa in giro alcune versioni diciamo così e drammatizzate dei libri di cielo però diciamo che la qualità audio e anche le voci non hanno proprio il top e quindi stiamo facendo questo lavoro mastodontico anche questo non lo troverete su youtube lo trovate soltanto nei podcast quindi allora qui oggi bisogna entrare dentro queste tecnologie cioè non ci vuole tanto basta che uno va sugli store e cerca spotify cerca e cerca apple podcast cerca google podcast cerca spricker scarica le applicazioni dopodiché si log si fa un account e cercato leonardo maria pompei pensate che quando io aggiungo un episodio su un podcast voi lo trovate immediatamente sul telefonino cioè io adesso faccio c'è l'MP3 di questa catechesi di questa sera lo carico il tempo che in automatico si aggiornano le piattaforme dopodiché chi si è iscritto al podcast girare una divina volontà gli arriva sul telefono notifica guarda che Don Leonardo ha fatto una catechesi nuova sulla divina volontà e se lo trova quando vuole clicca e se la sente d'accordo tra l'altro con i software di podcast si può accelerare la voce o diminuire la voce durante l'esecuzione quindi usate queste cose insomma perché d'accordo cioè ci sono un sacco di preghiere le preghiere nella divina volontà del mattino della sera c'è un podcast che è dedicato si chiama raccolta di preghiere in mp3 c'è una montagna di preghiere rosari gente che mi ha chiesto dice fai la preghiera del mattino e della sera ecco la preghiera del mattino e della sera eccetera eccetera no quindi noi viviamo in questo brutto mondo d'accordo dove queste cose come sappiamo sono usate ecco io ho fatto la scuola insomma da da paura bisogna non è difficile d'accordo cioè io sono 50 anni insomma non è che sono ragazzino piano piano mi sono imparato quindi i miei coetanei ce la possono fare tranquillamente certo se qualcuno c'è 70 80 anni capisco che che possa stare un pochino in difficoltà abbiamo fatto un pochino di appendici però attenzione questi sono appendici comunque a mio avviso molto molto utili perché ci abilitano insomma tante a tanti orizzonti positivi bene ci vediamo la prossima ripeto e chi vuole essere perfettamente aggiornato su tutte quante le mie attività deve consultare la home page del mio sito la mattina oppure la pagina facebook e andare sugli eventi e vedere quali eventi sono previsti in streaming per il giorno oppure chiedere l'iscrizione a il mio canale telegram lo chiedete con un messaggio privato gli amministratori vi mandano il link ci cliccate sopra e sarete informati e aggiornati di tutto e su tutto bene una santa notte a tutti io vi benedica alla prossima mia benedizione ave maria